Era il 4 febbraio del 2005, quando una frana ha interessato la parte alta della città sotto proprio il castello. Ricordo bene quel giorno perché anche in quel momento io ero sindaco di questa bellissima città. Questa ferita, come vedete, è rimasta nel tempo, anche se le persone hanno avuto loro... insomma sono state un po' risarcite dalla perdita, ma non si può risarcire la storia, non si può risarcire l'amore che quella gente aveva per questo quartiere di Via Vanelle che è rimasto poi nel cuore di tutti. Certo, poi grazie all'Accademia delle Belle Arti di Firenze abbiamo voluto, come dire, far rimarginare questa ferita in qualche modo. E loro lo stanno facendo egregiamente mettendo tanto amore e tanto impegno, oltre che tanta professionalità e arte, nel riprodurre scene di vita quotidiana. E noi siamo grati loro per questo. Il nostro compito sarà anche quello di provvedere a una rigenerazione urbana, soprattutto di questa zona, che deve diventare, come ho detto anche in altra occasione, la Marzamemi della montagna. Ci sono tutte le caratteristiche, la gente qui è molto accogliente, molto affettuosa, quella poca gente che è rimasta. Speriamo anche con i bandi che usciranno, penso a quelli dei paesi marginali, di ripopolare non solo Naro, ma soprattutto questa Via Vanelle.